perché tu sei prezioso gli occhi miei perché sei pregiato e io ti amo isaia capitolo 43 verso 4 la vita che vale in gesù che prezzo dareste alla vostra vita quanto vale per voi di tanto in tanto dei ricercatori calcolano il valore di mercato degli elementi che compongono un corpo umano basandosi sul costo corrente di sodio calcio ferro acqua si calcola che il valore per una persona media non supera i 5 euro ma la vostra esistenza non può certo essere valutata in questi termini la vostra vita e il modo in cui la vivete valgono molto di più dei componenti del vostro corpo dio ha attribuito un grande valore alla vostra vita voi siete molto più preziosi del denaro siete così preziosi per lui che gesù è morto per dimervi dal peccato oggi siete invitati ad accettare gesù come salvatore e poi chiamati a seguirlo essi saranno nel giorno che io preparo saranno la mia proprietà particolare dice il signore degli eserciti ed io li risparmierò come uno risparmio il fiduolo che lo serve malachia capitolo 3 verso 17